Oggi l'inaugurazione del comitato elettorale si parte dall'entusiasmo della gente. Un entusiasmo che cresce di giorno in giorno alla luce dell'inizio di questa campagna elettorale che è stata iniziata con l'entusiasmo di una serie di persone che ci hanno messo la faccia e ci vogliono mettere il loro impegno per risolvere i problemi di questa città. Lillo Firetto sette liste, le quattro liste, questo potrà rappresentare un limite? I limiti lo stabiliranno gli elettori, gli elettori sapranno scegliere tra chi ha una sua storia politica e chi ha invece una sua storia civile, una sua storia di imprenditore e di agrigentino. Cosa potrà fare la differenza in questa campagna elettorale? Faranno la differenza i programmi e la voglia di fare ed essere credibili e trasparenti. Ecco, quattro liste, Forza Silvio è quella ovviamente che è composta anche da consiglieri comunali oscenti e sarà quella la forza principale che sosterrà Silvio Alessio? La forza principale delle liste sarà la voglia di fare dei candidati e sicuramente la voglia di essere credibili e trasparenti su un programma chiaro e sincero per gli agrigentini. Deco, io continuo a fare questo.